sia lodato gesù cristo nel cuore immacolato di maria benvenuti fratelli e sorelle in questo santo rosario dei misteri dolorosi iniziamo subito con il nome del padre del figlio dello spirito santo amen e richiamiamo in noi la divina volontà a pregare a meditare a riflettere su questo santo rosario affinché possa come leggerete nel titolo youtube essere di testimonianza per coloro che vogliono imparare a recitare il santo rosario ha meditato poiché la vergine maria ci chiede in tutti in tutte le apparizioni del mondo di pregare il santo rosario ma di pregarlo meditato cioè con il cuore con la lettura dei passi con la comprensione dei passi con le intenzioni e quindi dedicheremo ogni ogni decina a una intenzione particolare spirito santo viene in me a parlare a recitare il santo rosario a respirare nei miei polmoni a ricordare nella mia memoria a regnare in me a parlare nelle mie labbra affinché possa questo santo rosario salvare tante anime liberare tante anime dal purgatorio ed essere di testimonianza per coloro che ci ascoltano padre nostro che sei nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male amen avea maria piena di grazie al signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen sia gloria al padre al figlio allo spirito santo come era nel principio di sempre nei secoli dei secoli del tuo terno volere mio dio io credo d'oro spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano e non ti amano mio dio io credo d'oro spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano e non ti amano mio dio io credo d'oro spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano e non ti amano io credo in dio padre onipotente creatore del cielo della terra di tutte le cose visibili e invisibili credo in un solo signore gesù cristo unigenito figlio di dio nato dal padre prima di tutti i secoli dio da dio luce da luce dio vero da dio vero generato non creato della stessa sostanza del padre per mezzo di lui tutte le cose sono state create per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello spirito santo si è incarnato nel seno della vergine maria si è fatto uomo o crocifisso per noi sotto ponzio pilato morì fu sepolto il terzo giorno e risuscitato secondo le scritture è salito il cielo si dà la testa del padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vive e morte il suo regno non avrà fine credo nello spirito santo che il signore della vita e procedere dal padre dal figlio e con il padre il figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti credo la chiesa una santa cattolica apostolica professo un solo battesimo per il perdono dei peccati aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà amen primo mistero del dolore gesù prega esso da sangue e l'orto degli olivi dal vangelo secondo luca 22 44 al monte degli olivi gesù entrato nella lotta pregava più intensamente il suo sodore diventò come gocce di sangue che cadono a terra nostro signore gesù ha portato i suoi apostoli al monte degli olivi dove ha detto loro pregate per non entrare in tentazione e vegliate che pregate non addormentatevi per non entrare in tentazione per comprendere il vangelo e per comprendere le parole di gesù in questo primo mistero dobbiamo considerare che gesù quando era insieme a pietro e gli disse tu mi rinnegherai per tre volte e pietro gli disse no io mai gesù già in quella circostanza aveva aveva intravisto tutti i fatti futuri che si sarebbero svolti e quindi aveva intravisto tutte le situazioni come in un film dei comportamenti dei suoi apostoli le reazioni il calvario e quindi la flagellazione la morte in croce la resurrezione aveva già visto come in un film tutto questo così come in un film il padre celeste ha mostrato a giovanni l'apocalisse e quindi tutto quello che stiamo vivendo oggi noi nel corso dei duemila anni dalla prima venuta di gesù nella sua incarnazione per mezzo del cuore immacolato di maria allora gesù dice ai suoi apostoli di di non addormentarsi di entrare di entrare in meditazione nella preghiera di pregare perché sapeva benissimo che sarebbero venute le guardie e che e che poi loro avrebbero preso spada per impedire all'esercito romano di prendere gesù ma ecco perché gesù li ha avvisati e gli ha detto di pregare per non entrare in tentazione la tentazione è proprio quella di voler difendere gesù dalle guardie romane quando l'insegnamento di gesù ai suoi apostoli era preciso perché lo stesso gesù ai suoi apostoli disse non sapete voi che il mio regno non è di questo mondo e che possiedo le legioni e degli angeli e che il mio comando possono scendere dal cielo per venire a liberarmi a questa era la volontà degli uomini non la volontà di dio perché c'è c'era un disegno tuttora c'è un disegno e questo disegno del padre come in un film va dalla dalla prima venuta di gesù alla seconda venuta di gesù e questo disegno oggi lo viviamo a pezzi attraverso attraverso le varie apparizioni del mondo della santissima vergine maria e delle varie profezie che ci indicano questa seconda venuta nella nostra generazione gesù entra negli orto degli olivi e su da sangue su da sangue perché su di sé prende il calice amaro non solo della terra ma dell'universo intero su di sé prende tutti i peccati di tutti gli uomini di tutto l'universo e noi dobbiamo considerare che l'universo è abitato perché sarebbe irresponsabile dire che gesù abbia preso su di sé soltanto i peccati della terra abbia preso i peccati di tutti gli uomini di tutto l'universo ecco che attraverso le rivelazioni di un martire di un giovane martire che morì all'età di 31 anni che si chiama marcello vanna di cui abbiamo portato le rivelazioni su questo canale youtube un ragazzo del vietnam innamorato di gesù e che ha vissuto fino alla morte in carcere per gesù gesù gli rivela a marcello che quando era nell'orto degli olivi certo sotto sangue per perché su di sé stava prendendo il peso dell'universo affinché le porte del paradiso fossero aperte a tutti gli uomini dell'universo uomini inteso uomini donne a quindi tutte le anime dell'universo e sudo sangue ma allo stesso tempo gioì perché in quel momento vide tutti i martiri e tutti coloro che per lui avrebbero dato la vita e vide anche il martire marcello di 31 anni che soffrì le pene dell'inferno nel suo nome e questo gli concesse la forza di andare fino in fondo allora offriamo gesù in questa vicina nella vergine maria e offriamo i potenti e questa guerra che l'umanità vuole a tutti i costi prendendo su di sé il calice amaro della carestia delle pestilenze del crollo economico della morte di milioni di persone come scritto nel terzo segreto di fatima e questa guerra porterà all'intervento della santissima trinità per impedire che il mondo venga distrutto allora chiediamo a gesù perdono per i potenti affinché se ne salva qualcuno e affinché si possono salvare quante pionime possibile di tutte le vittime che periranno durante questa terza guerra mondiale signore abbi pietà dai tuoi figli in tutto il mondo di coloro che ti conoscono e non ti conoscono di coloro che credono in altre divinità perché tu ci hai detto nel Vangelo che ci giudicherai in base alle opere e non in base al credo Padre nostro che se nei cieli sia santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione ma liberaci dal male. Amen Ave Maria piena di grazie al Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ed essa nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazie al Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ed essa nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazie al Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori ed essa nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria piena di grazie al Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazia il Signore è con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte è un anno avea maria appena di grazia signore con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte è nome avea maria piena di grazie al signore e con teし она benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno gesù sanda maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte e Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli e dei secoli del tuo eterno volere. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. In questo secondo mistero contempliamo Gesù flagellato dai soldati, dal Vangelo secondo Matteo 27, 26. Pilato, rimesso in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Signore, abbiamo così tante rivelazioni da parte dei tuoi mistici, martiri, profeti, nel corso di questi duemila anni, a cui hai dato le stimmate, a cui hai dato i segni sulle mani, sui piedi, sul costato, sulla fronte, a cui hai fatto vivere questa crocifissione e questa flagellazione continua, sia nel corpo, ma sia anche in estasi. Questa flagellazione, questa crocifissione, il Signore Gesù, continuano ancora oggi. Ci sono mistici che tu, come Luisa Picarreta, nella rivelazione della Divina Volontà del 1900, questa tua cara figlia la rappivi in estasi e la portavi fuori dal corpo, la portavi in paradiso, la portavi in purgatorio, la portavi nei regni celesti, paradisiaci, dove ne facevi vedere il futuro del mondo e dove poi la facevi immolare sulla croce, dove sperimentava una parte dei tuoi dolori per la salvezza della tua creazione, che è l'universo intero abitato. Allora, Signore, ancora oggi, questo mondo ti continua a flagellare, questo mondo governato dal demonio. Ci hai promesso attraverso molti tuoi mistici che il demonio perderà la sua battaglia, ci hai promesso attraverso i segreti di Međugorje che Satana perderà completamente, ci hai promesso attraverso i tuoi mistici, i tuoi santi, i tuoi profeti, che ritornerai nella gloria a giudicare il mondo, a instaurare il regno di pace promesso in questa generazione, non nella prossima, come non è neanche stata quella precedente, ma in questa generazione, dove vivremo la Terza Guerra Mondiale, dove vivremo il dominio dell'Anticristo, che rappresentano la massima flagellazione della tua Chiesa e delle offese che il Padre riceverà, ma ci hai promesso anche che proteggerai il tuo popolo, non utrirai, non gli farei mancare nulla e lo condurrai attraverso la tua seconda venuta nella gloria nel cielo con tutti i tuoi angeli, i santi e la Vergine Maria a instaurare in questo mondo il regno d'amore e di pace promesso. Ecco, Signore, ti offriamo in questo momento, in questa decina, ti offriamo tutte le anime del Purgatorio flagellate dal fuoco dell'avvertimento che le sta purificando prima di entrare in Paradiso, metto nelle tue mani il flaggello più grande che il tuo cuore sta ricevendo da parte di questa umanità che è l'aborto, insieme alla guerra. Chiedo perdono, Signore, per questi due flaggelli che lacerano la tua carne, il tuo spirito, perché tu non sei un Dio indifferente, ma c'è un disegno che si deve realizzare e oggi siamo chiamati a prepararci a questo disegno, a questo inizio dei segreti di Meggiugori con la preghiera del Santo Rosario meditata, con la riparazione delle offese che la Santissima Dernità riceve e con il cammino di conversione per abbandonare le cose del mondo e impegnarsi per piacere soltanto a te. Padre nostro, che sei nei Cieli, sia santificato il tuo nome e venga al tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra, dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Aveo Maria, piena di grazie, al Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazie, al Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazie, al Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazie, al Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Aveo Maria, piena di grazie, al Signore è con te, Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Sia gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli del tuo terno volere. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. Verso mistero del dolore, Gesù è incoronato di spine. Dal Vangelo secondo Matteo, 27, 28 e 29. I soldati spoglierono Gesù, gli fecero indossare un mantello scarlato, indrecciarono una corona di spine, gliela possero sul capo e gli mesero una canna nella mano destra. Poi ingirocchiandosi davanti a lui, lo diridevano, salve re dei giudei. Come abbiamo detto precedentemente, Gesù vide, insieme al Padre, videro tutto quello che sarebbe accaduto. E accettò questa grande umiliazione perché l'umiltà è la virtù più grande che esiste. Attraverso l'umiltà si entra in Paradiso, attraverso l'umiltà si riconosce, si riconoscono i propri peccati, le proprie debolezze, le proprie paure, le proprie mancanze. Attraverso l'umiltà abbiamo la possibilità di intraprendere un cammino di conversione per piacere a Dio. Gesù è incoronato di spine. Questa corona di spine oggi rappresentano i miliardi e miliardi e miliardi di peccati che offendono la Santissima Trinità. Un mondo, questo nostro mondo, che come è scritto nelle rivelazioni di Maria Valtorta, è la Babilonia, è la prostituta di Satana. Quindi tutta la terra. E lo Spirito Santo scende, ma deve attraversare molti ostacoli per raggiungere le anime. Ed ecco che Gesù, in silenzio, accetta tutte le umiliazioni e ci dona questo grande insegnamento di rimboccarci le maniche, prendere la nostra croce e seguirlo, per quanto la strada possa essere dura, senza voltarci indietro e senza scappare. La tentazione di scappare è grande, la tentazione di dire di no al Signore è grande, ma il Signore quando sceglie i Suoi figli per determinate missioni, sacrifici, io non ricordo anime che hanno mai detto di no al Signore. Per lo più ci sono anime a cui non è stato chiesto nulla e che però hanno dato un sì inaspettato alla Santissima Trinità rinunciando al mondo e dedicandosi alla testimonianza del Regno di Dio senza avere visioni, senza avere locuzioni, senza sentire voci, senza avere apparizioni e queste anime attraverso il loro sì, attraverso il loro impegno nel parlare e nel testimoniare il Regno di Dio alle anime hanno ricevuto molto di più di quelli che vedono, sentono e quindi dobbiamo riconoscere e dobbiamo riconoscerci umili davanti al disegno di Dio davanti a questo disegno dove ognuno di noi ha una corona di spine fatta dai problemi della vita ma soprattutto dalle tentazioni del libero arbitrio i piaceri della carne i piaceri della gola infinite infinite tentazioni da ogni sorta di genere abbiamo oggi la televisione il cellulare i film le mode e quindi abbiamo infiniti modi per offendere la Santissima Trinità però la maggior parte dell'umanità anche se è cristiana o non cristiana comunque di altre religioni che non credono nell'esistenza della vita dopo la morte ignorano Dio e fanno del proprio libertinaggio una continua offesa a Dio un Dio che non merita neanche più non vuole più essere chiamato Dio ma vuole essere chiamato papà padre e questo è il nome più bello che possiamo dare al padre di Gesù e a Gesù stesso neanche più chiamarli Dio ma padre perché Gesù e il padre sono la stessa cosa nello Spirito Santo e quindi noi dobbiamo impegnare anche a cambiare questo titolo a non dire più Dio 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 ma padre papà dolce papà amorevole papà che sei nei cieli e questo è il nominativo più bello che possiamo dare perché il padre celeste ha creato l'universo la vita i regni paradisiaci e oggi in questo mondo pieno di spine pieno di tentazioni ci chiama a prendere la corona di spine dal capo di Gesù e dirgli padre lascia che la porti anche io un po' questa corona e lascia che baci le tue ferite le tue piaghe che ti aiuti in questa continua sofferenza provocata dal libero arbitrio dal libertinaggio dall'azione del demonio dove questi infiniti peccati ti offendono e ti offro Signore Gesù per mezzo del cuore immacolato di Maria in questa decina tutte le offese che l'umanità continua a provocarti tutte le offese tutti i peccati il libero arbitrio le guerre gli aborti le malattie gli stupri gli omicidi l'indifferenza del tuo popolo la tua chiesa divisa nelle tue mani Signore metto tutte queste spine che sono tutti i peccati che ricevi tutte le offese che ricevi da parte di questa umanità ingrata e ti chiedo perdono offrendoti riparazione e testimonianza in questo rosario e metto nelle tue mani la rinuncia al mondo alle donne ai divertimenti alla carne alla famiglia finché la mia rinuncia a questi desideri possono essere possono togliere qualche spina dal tuo capo e donarti un po' di sollievo Padre nostro che sia nei cieli sia santificato il tuo nome venga al tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male Amen Ave Maria piena di grazie Signore contento sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie Signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie Signore con te tu sei la benedetta benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazie signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, Amen Ave Maria, piena di grazie il Signore è con te, tu siano benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio prega per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte, Amen Io gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano, non ti adorano e non ti amano in questo quarto mistero del dolore, Gesù percorre la via del Calvario portando la croce dal Vangelo secondo Giovanni 19, 17, 18 Gesù portando la croce si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgotha, dove lo crocifissero e con lui altri due uno da una parte a uno dall'altra e Gesù in mezzo Signore in questo in questo passo del Vangelo ci ricordi che hai iniziato a salire la croce con la croce sulle spalle verso il luogo della crocifissione si è caduto più volte e poi le guardie presero un cireneo della folla affinché potessero aiutarti a questo cireneo mise subito le cose in chiaro lui con te non non voleva avere nulla a che fare e subito e subito questo ci ricorda Signore come come i tuoi figli abbiano paura di avvicinarsi a delle persone malate con delle disabilità con delle malattie con dei problemi come per dire io non mi avvicino a te perché non voglio condividere lo stesso peso del lo stesso peso che tu stai portando o non voglio che su di me ricadano le stesse colpe che stanno ricadendo su di te e questa è una questa è una offesa grandissima contro lo spirito santo che il vangelo ci ricorda cioè ci sono anime che hanno tradito Gesù e Gesù li ha perdonati in anticipo e ci sono anime che hanno messo subito in chiaro ok ti aiuto perché mi stanno costringendo le guardie ma con te non voglio avere nulla a che fare e queste anime sono oggi sono i giovani che è da pazzi rinunciare al mondo la carne i divertimenti per seguire Gesù su questo canale youtube stiamo portando le rivelazioni di Gesù a una mistica francese Maria la testa Gesù le ha fatto scrivere 15 libri in uno di questi libri il quattordicesimo è intitolato le relazioni tra Dio e gli uomini tra gli angeli e gli uomini e tra gli uomini e gli uomini in questo libro Gesù parla a Maria la testa questa mistica questa suora che a un certo punto parla delle relazioni che si vivono sulla terra dove Gesù spiega a Maria la testa come queste relazioni dovrebbero essere vissute e come poi saranno vissute nel nuovo mondo quindi nel regno di pace che verrà dopo la seconda venuta di Gesù oggi vediamo che il corpo viene usato come un mezzo per godere per i piaceri della carne quindi stiamo parlando del sesso ma il sesso non sarà contemplato nel nuovo mondo perché l'uomo e la donna si uniscono nel vincolo di questo atto che è fine alla procreazione e non alla masturbazione reciproca perché alla fine il sesso è questo è una masturbazione reciproca e Gesù spiega a Maria che si vivrà in santità nel matrimonio o prima ancora di sposarsi perché tutto deve essere santo perfetto pulito senza macchia sia al parlare sia al comportarsi e sia e sia a questi tre tipi di relazioni gli uomini con gli uomini o le donne gli uomini con gli angeli e gli uomini con Dio ed ecco che i giovani oggi non vogliono avere nulla a che fare con Gesù vanno vanno in chiesa come il gireneo viene costretto dalle guardie ad aiutare Gesù però poi sono nel mondo si divertono fanno sesso si ubriacano vivono nei divertimenti e poi e poi donano quella falsa luce nel dire vado in chiesa perché lo vuole mio padre e mia madre perché seguo un cammino ma quel cammino non lo metto in pratica perché non conosco le relazioni sante che Gesù ha insegnato a Maria Valtorta a Luisa Picarreta a Maria Latest e a tanti altri mistici come ci si veste come ci si comporta le cose da fare le cose da non fare e quindi il discernimento e quindi saliamo insieme con Gesù sulla croce verso il Calvario e vogliamo dirti Signore che con Te noi ci vogliamo avere a che fare e se ci dicono berrai anche Tu crocifisso va bene tu non puoi appartenere al nostro gruppo perché parli di Chiesa parli di Gesù e queste cose non ci piacciono va bene tu dovrai stare solo e dovrai portare il peso delle scelte che hai fatto va bene Signore vogliamo appartenere a Te vogliamo avere a che fare con Te e vogliamo portare con Te la croce aiuta anche noi a portare la nostra croce le nostre scelte i nostri sacrifici perché possono glorificarti e possono avvicinarci sempre di più a Te per mezzo del cuore immacolato di Maria e mettiamo nelle Tue mani tutti i giovani del mondo che non vogliono avere a che fare con Te insieme a tutti gli anziani a tutti gli adulti di tutte le religioni di tutta l'età che ti ignorano e che vivono soltanto per il proprio egoismo vivendo una vita che li conduce all'inferno il Tuo angelo della pace a Fatima Signore ha insegnato questa bellissima preghiera mio Dio io credo ad oro spero e ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano non ti amano affinché possiamo recitarla sempre per la salvezza dei peccatori e per coloro per cui nessuno prega perché senza la nostra preghiera e senza i nostri sacrifici la maggior parte delle anime che muoiono ogni giorno andrebbe all'inferno Padre nostro che se ne cieli sia santificato il Tuo nome venga al Tuo regno sia fatta la Tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori non ci abbandonare la tentazione ma libera e c'è dal male Amen Aveo Maria piena di grazie al Signore e con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prego per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Aveo Maria piena di grazie al Signore e con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prego per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Aveo Maria piena di grazie al Signore e con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prego per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Aveo Maria piena di grazie al Signore e con te tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del Tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prego per noi peccatori adesso è l'ora della nostra morte e amena avea maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio preda per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte e non male o maria pia di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amene. Ave Maria piena di grazie al Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte, amene. Ave Maria piena di grazie al Signore è con te, tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria madre di Dio prega per noi peccatori, adesso nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Sia colori al Padre, il figlio lo spirito santo come era nel principio di sempre nei secoli dei secoli del tuo eterno volere mio dio io credo d'oro spero ti amo domando perdono per tutti quelli che non credono non sperano non ti adorano e non ti amano quinto mistero del dolore gesù e crocifisso e muore in croce dal vangelo secondo giovanni 19 25 30 stavano presso la croce di gesù sua madre la sorella di sua madre maria madre di crepa e maria magdala dopo aver preso l'aceto gesù disse e compiuto e chinato il capo consegnò lo spirito queste sono spiegazioni un po più brevi perché poi siamo chiamati a riflettere un pochino più più riflessivi sulla morte in croce di nostro signore gesù cristo come abbiamo detto prima gesù mostra a marcello van questo mistico e martire dell'eucalistia del vietnam che muore a 31 anni e mostra a questo mistico che la forza e la bellezza della vittoria sulla morte attraverso la morte e la resurrezione sulla croce gesù le trova nella visione di tutti i santi di tutti i mistici di tutti i martiri che pensando lui hanno sospirato di stare con lui nella gloria hanno e hanno ispirato l'ultimo respiro per dire anche loro tutto è compiuto sia fatta la tua volontà in questo film il signore vede tutti i martiri tutti i mistici tutti i profeti tutti i santi morire per lui e allora gesù si trova sulla croce e vede non solo sua madre insieme ad alcune insieme a giovanni l'apostolo sotto la croce ma vede anche nel cielo la sua gloria tutti gli angeli che piangono alcuni di loro vorrebbero intervenire per liberare il loro re e il signore dell'universo ma la divina volontà impedisce agli angeli di intervenire perché quella era era la volontà di dio era il disegno di dio e tutto ti doveva compiere ma attraverso le rivelazioni di gesù a suorbeghe questa mistica francese la francia ha ricevuto tanti mistici meravigliosi gesù le mostra che dopo dopo la sua morte in croce discende agli inferi infatti noi recitiamo nel credo discese agli inferi il terzo giorno risuscita da morte e gesù discese veramente agli inferi perché il peso che aveva preso su di sé non era il peccato di una generazione era il peccato dell'universo quindi tutti i mondi abitati dal primo all'ultimo uomo nell'universo creato dal padre era sul peso di gesù cristo nostro signore e in questo e questo peso lo trascinò agli inferi come come se cadde da un grattacielo un grande masso e la forza di era talmente forte che alla fine questa luce scese incorruttibile e arrivò al piano terra dell'inferno tutti i demoni i milioni e milioni e di miliardi di demoni guardavano gesù cristo ma si polverizzarono perché intorno a gesù c'era comunque la la sua gloria ed ecco che il signore pose i suoi piedi sul suolo dell'inferno nel posto più oscuro dove non c'era non c'era la luce di dio la presenza di dio dove c'erano i tormenti più oscuri ma gesù non non senti non senti nulla di tutto questo perché era aveva intorno a sé la gloria della santissima trinità quindi era vestito di sole e allora camminando sul suolo dell'inferno fosse fosse lì una la sua luce la luce della sua gloria con scritto ho vinto la morte ho vinto l'inferno le porte del paradiso sono aperte a tutti coloro che credono in me a tutti coloro che fanno la mia volontà allora salto via dall'inferno e come una meteora uscì fuori da quella dimensione eterna infinita per passare poi alle dimensioni del purgatorio e per arrivare poi alla dimensione del padre che il paradiso infinito eterno e a questa mistica gesù le rivela che nel momento in cui uscì dall'inferno per arrivare al padre per entrare nella sua gloria e per poi ritornare nel suo corpo resuscitato sulla terra esistono delle dimensioni tra il purgatorio e l'inferno dove le anime non sono dannate ma sono tormentate dalle anime dannate e queste dimensioni appartengono agli angeli decaduti per cui bisogna non pregare però la loro speranza e di ritornare nella gloria della Santissima Trinità e per questo oggi la maggior parte di questi angeli caduti non sono qui per quindi non stiamo parlando di angeli non stiamo parlando di demoni stiamo parlando di di angeli che al momento della ribellione di lucifero non non hanno preso una posizione quindi né con dio e con lucifero e quindi per loro il giudizio è severo severissimo e quindi si devono mettere a disposizione degli uomini della terra per consolarli dare segni e condurli nella gloria di gesù della sua seconda venuta allora offriamo a gesù baciamo le sante le sante piaghe di gesù dei suoi pieti delle sue mani del suo costato della sua fronte con la sua corona di spine e versiamo sulle sue sante ferite le lacrime della vergine maria e le lacrime di san giuseppe per asciugare le sue ferite e per e anziché bagnare le sue labbra con l'aceto le bagniamo con le lacrime di san giuseppe e della santissima vergine maria offrendogli questa decina per la chiesa che è divisa in centinaia di altre chiese non cattoliche questa chiesa che politica questa chiesa che corrotta in questa chiesa che è infiltrato satana insieme alla massoneria ecclesiastica in questa chiesa che morirà per poi risuscitare e mettiamo nelle tue mani santissima traità questo papa il prossimo papa che sarà il papa delle profezie della terza guerra mondiale delle rivelazioni della madonna nel mondo insieme ai futuri papi che attendono questo disegno divino insieme al grande monarca l'angelo della pace il papa angelico signore metto nelle tue mani la missione dell'angelo della pace attraverso le rivelazioni di luz e di maria la missione della vergine maria in tutto il mondo e chiedo perdono per tutte le offese che anche oggi hai ricevuto offese gravissime da parte dei tuoi figli sulla terra che anche oggi ti hanno crocifisso attraverso l'aborto e la guerra padre nostro il seno e cieli che ha santificato il tuo nome venga il tuo regno sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come noi rimettiamo i nostri debitori non ci abbandonare la tentazione ma liberaci dal male amen aveo maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen aveo maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen aveo maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen aveo maria piena di grazia il signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù Santa Maria Madre di Dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte Amen Ave Maria piena di grazia il Signore è con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazie, al Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù, Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen avea maria piena di grazie al signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen avea maria piena di grazie al signore con te tu sei la benedetta fra le donne benedetto il frutto del tuo seno gesù santa maria madre di dio prega per noi peccatori adesso nell'ora della nostra morte amen sia gloria al padre al figlio allo Spirito Santo, come era nel principio e sempre, nei secoli dei secoli del tuo eterno volere, mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo, domando perdono per tutti quelli che non credono, non sperano, non ti adorano e non ti amano. Salve, oh regina, madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra salve. A te ricorriamo, e sui figli di Eva, a te sospiriamo, gemente piangenti, in questa valle di lacrime. Orso dunque, avvocata nostra, rivolge a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. Oh clemente, oh pia, oh dolce vergine Maria. Allora ci spostiamo sul pdf per pregare l'ultima preghiera, il moltiplicatore del Santo Rosario. Il moltiplicatore del Santo Rosario ha valore per nove rosari e si recita alla fine del Santo Rosario. Dio ti saluta, oh Maria. Dio ti saluta, oh Maria. Dio ti saluta, oh Maria. Oh Maria, io ti saluto 33.000 volte. Come ti ha salutato l'arcangelo Sacambriele, è gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore che l'arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Ave, oh Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, oh Maria. Dio ti saluta, oh Maria. Dio ti saluta, oh Maria. Oh Maria, io ti saluto 33.000 volte. Come ti ha salutato l'arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore che l'arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Ave, oh Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Dio ti saluta, oh Maria. Dio ti saluta, oh Maria. Dio ti saluta, oh Maria. Oh Maria, io ti saluto 33.000 volte. Come ti ha salutato l'arcangelo San Gabriele. È gioia per il tuo cuore ed anche per il mio cuore che l'arcangelo ti abbia portato il saluto del Cristo. Ave, oh Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno Gesù. Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte. Amen. Fiat, fiat, fiat. Ave Maria purissima concepita senza peccato. Ave Maria purissima concepita senza peccato. Ave Maria purissima concepita senza peccato. Chi è come Dio, nessuno è come Dio. In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Eccoci giunti al termine della preghiera, del Santo Rosario meditato. Spero che anche voi possiate imparare a meditare il Santo Rosario in questo modo, a leggere i passi della Bibbia, a dedicare per ogni decina una intenzione e vi porto nelle mie preghiere e spero che possiate anche voi imparare a pregare così e far imparare a pregare anche i vostri amici e coloro che pregono il Santo Rosario con voi. Sia lodato Gesù Cristo nel cuore macolato di Maria.